Scuola, mentre tutto il personale in vista della riapertura il 14 settembre può prenotare il test sierologico gratuito e volontario ma caldamente consigliato e mentre si lavora per l'assetto di banchi e aule, tra le questioni da definire c'è sicuramente quella delle mascherine in classe. Ai ragazzi infatti al di sopra dei sei anni sarà chiesto di utilizzare la mascherina, aveva anticipato il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Contraria a questa ipotesi la regione toscana però si è garantito il distanziamento di un metro come sarà nella nostra regione. Nella stragrande maggioranza dei casi già dal 14 settembre riteniamo che i ragazzi seduti al banco non dovranno indossare la mascherina, spiega l'assessore all'istruzione Cristina Grieco al Corriere Fiorentino. Il CTS smentisce la ministra Lucia Azzolina che nei giorni scorsi aveva detto niente mascherina per gli studenti quando sono al banco. D'accordo anche con le altre regioni abbiamo chiesto che gli alunni sopra i sei anni debbano indossarla solo negli spostamenti, non al banco se c'è il distanziamento di un metro che è fondamentale. Sottolinea ancora l'assessore Grieco è giusto che decida lo Stato e si dovrà tenere conto anche dell'eventuale aumento dei livelli di contagio ma ad oggi ci sono le condizioni in Toscana perché gli alunni possano non indossarla quando sono seduti.